Il più importante è il quarto congresso della CNT-EIT nel 1936 e il primo maggio a Saragozza, in Spagna. La Confederazione Nazionale del Lavoro è aderita all'Associazione Internazionale dei Lavoratori. Concetto di costruzione della rivoluzione. Innanzitutto dare a ciascuno ciò che i suoi bisogni richiedono, senza avere altri limiti nella sua soddisfazione rispetto a quelli imposti dalle possibilità. Dell'economia. Secondo richiedere ad ogni persona il massimo contributo dei propri sforzi secondo le esigenze della società, tenendo conto delle condizioni fisiche e morali di ogni individuo. Organizzazione della nuova società dopo l'evento evoluzionario. Le prime misure della rivoluzione. Sono dichiarati aboliti, la proprietà privata, lo Stato, il principio di autorità e, di conseguenza, le classi che dividono gli sfruttatori e gli sfruttati, oppressi e oppressori. Una volta socializzata la ricchezza, le organizzazioni di produttori liberi saranno incaricate dell'amministrazione diretta dalla produzione e del consumo. Una volta che la comune anarchica sarà stata istituita in ogni località, metteremo in moto il nuovo meccanismo sociale. I produttori di ogni ramo o mestiere, riuniti. Nei loro sindacati e nei luoghi di lavoro, determineranno liberamente il modo in cui sarà organizzato. La libera comune si impadronirà di ciò che era precedentemente detenuto dalla borghesia, come cibo, vestiti, materie prime, strumenti di lavoro, ecc. Questi strumenti di lavoro e materie prime devono essere messi a disposizione dei produttori in modo che possano gestirli direttamente a beneficio della comunità. In primo luogo, i comuni si occuperanno di accogliere tutti gli abitanti di ogni località con il massimo comfort, assicurando l'assistenza agli ammalati e l'educazione dei bambini. Tutte le persone saranno disposte ad adempiere al dovere volontario che diverrà un vero diritto quando l'essere umano opererà liberamente per prestare il proprio aiuto alla comunità, in relazione alle proprie forze e capacità, e la comune adempirà l'obbligo di soddisfare i loro bisogni. Certo, è necessario creare, d'ora in poi, l'idea che i primi giorni della rivoluzione non saranno facili e che sarà necessario per ciascuno fare il massimo sforzo e consumare solo ciò che le possibilità di produzione consentono. Ogni periodo costruttivo richiede sacrificio e accettazione individuale. Collettiva e non creare difficoltà per l'opera di ricostruzione della società che tutti svolgeremo di comune accordo. Piano organizzativo dei produttori. Il piano di organizzazione economica, in qualunque manifestazione abbia la produzione nazionale, si adeguerà ai più rigorosi principi dell'economia sociale, amministrato direttamente dai produttori attraverso i loro vari organismi di produzione. Nominati nelle assemblee generali dei vari organismi da questi sempre controllati. Come base, nei luoghi di lavoro, nell'unione, nel comune, in tutti gli organismi regolatori della nuova società, il produttore e l'individuo come cellula, come pietra angolare di tutte le creazioni sociali, economiche e morali. Come organismo di relazione all'interno del comune e nei luoghi di lavoro, il consiglio di officina e di fabbrica, d'intesa con gli altri centri di lavoro. In qualità di organismo di relazione sindacale, associazione di produttori, i consigli di statistica e di produzione, che continueranno a federarsi tra loro per formare una rete di relazione costante e stretta tra tutti i produttori della Confederazione Iberica. In campo, come base, il produttore nel comune, che. Trarrebbe vantaggio da tutte le risorse naturali di una demarcazione politica e geografica. Come organo di relazione, il consiglio delle colture, che comprenderà elementi tecnici e lavoratori membri delle associazioni di produttori agricoli, incaricato di guidare l'intensificazione della produzione, indicando i terreni più appropriati per essa, in base alla loro composizione chimica. Questi. Consigli di coltivazione stabiliranno la stessa rete di relazioni di consigli di officina, di fabbrica e di produzione di statistica, integrando la libera federazione che il comune rappresenta come demarcazione politica e suddivisione geografica. Sia le associazioni di produttori industriali che le associazioni di produttori agricoli si federano a livello nazionale pur che solo in un paese che. Ha svolto la propria trasformazione sociale se, portati a questo dilemma dallo stesso processo lavorativo al quale sono educati, lo ritengono conveniente per il più fruttuoso sviluppo dell'economia, e allo stesso modo saranno federati nello stesso senso quei servizi la cui caratteristica tende a farlo facilitando le relazioni logiche e necessarie tra tutte le comuni anarchiche. Riteniamo che nel. Tempo la nuova società sarà in grado di fornire ad ogni comune tutti gli elementi agricoli e industriali necessari alla sua autonomia, secondo il principio biologico che afferma che la persona è più libera, in questo caso il comune che meno ha bisogno degli altri. Le comuni anarchiche e il loro funzionamento. L'individuo, il comune e la federazione. L'amministrazione sarà di natura. Assolutamente comunitaria. La base di questa amministrazione sarà dunque il comune. Tali comuni saranno autonomi e federati a livello regionale e nazionale per la realizzazione degli obiettivi di carattere generale. Il diritto all'autonomia non escluderà il dovere di rispettare accordi collettivi di convivenza, non condivisi da semplici valutazioni e che nella sostanza sono accettati. Pertanto, un. Comune di consumatori senza limitazioni volontarie, si impegnerà a rispettare quelle regole di carattere generale che, dopo libera discussione, sono state concordate a maggioranza. D'altra parte, quei comuni che, refrattari all'industrializzazione, acconsentiranno ad altri tipi di convivenza, come naturisti e spogliarelliste e altri, avranno diritto ad un'amministrazione autonoma, svincolata dagli. Impegni generali. Poiché questi comuni nudisti, o qualsiasi altra classe di comuni, non saranno in grado di soddisfare tutte le loro esigenze, per quanto limitate possano essere, i loro delegati ai congressi della Confederazione Ibarica dei Comuni Anarchici Autonomi potranno stipulare accordi economici con gli altri comuni agricoli e industriali. In conclusione proponiamo, la creazione del comune. Come ente di coordinamento sociale generale e amministrativo. Il comune sarà autonomo e confederato al resto dei comuni. I comuni si federano a livello regionale e regionale, fissando i propri limiti geografici e piacimento, quando conviene unire piccoli paesi, villaggi e luoghi in un unico comune. L'insieme di questi comuni costituirà una Confederazione Ibarica dei Comuni Autonomi Anarchici. Per. La funzione distributiva della produzione, e perché i comuni possono essere meglio nutriti, possono essere creati qua gli organismi suppletivi volti a realizzarla. Ad esempio, un Consiglio Confederale di Produzione e Distribuzione, con rappresentanze dirette delle Federazioni Nazionali di Produzione e il Congresso Annuale dei Comuni. Missione e funzionamento interno della comunità. Il comune deve. Prendersi cura di ciò che interessa l'individuo. Dovrà occuparsi di tutte le opere di organizzazione, sistemazione e abbelimento della popolazione. Della sistemazione dei suoi abitanti, degli articoli e dei prodotti messi al vostro servizio dalle organizzazioni sindacali o dalle associazioni di produttori. Si occuperà anche di igiene, statistiche comunitarie e bisogni collettivi, insegnamento. Strutture sanitarie e conservazione e miglioramento delle strutture sanitarie media locali. Organizzerà i rapporti con gli altri comuni, e avrà cura di stimolare tutte le attività artistiche e culturali. Per il corretto adempimento di questa missione, sarà nominato un Consiglio di Comunità, al quale si aggiungeranno rappresentanti dei Consigli Coltivazione, Salute, Cultura, Distribuzione Produzione e Statistica. La procedura per l'elezione dei consigli comunali sarà determinata secondo un sistema in cui stabiliscano le differenze che la densità di popolazione consiglia, tenendo conto che occorrerà a tempo per decentralizzare politicamente le metropoli, costituendo con esse federazioni di comuni. Tutte queste posizioni non avranno natura esecutiva o burocratica. Oltre a coloro che svolgono funzioni tecniche o semplicemente statistiche, anche gli altri svolgeranno la loro missione di produttori, incontrandosi in sessioni alla fine della giornata di lavoro per discutere questioni dettagliate che non necessitano dell'approvazione delle assemblee comunali. Le assemblee si terranno tante volte quante ne necessiteranno gli interessi del comune, su richiesta dei membri del Consiglio Comunale, o per volontà degli abitanti di ciascuno. Rapporti e scambi di prodotti. Come abbiamo già detto, la nostra organizzazione è di natura federalista e garantisce la libertà dell'individuo all'interno del gruppo e della comune, quella dei comuni all'interno delle federazioni, e quella di questi ultimi all'interno delle confederazioni. Si va, quindi, dall'individuo alla collettività, garantendo i propri diritti per preservare il principio di libertà immateriale. Gli abitanti di un comune discuteranno tra loro i loro problemi interni, produzione, consumo, istruzione, igiene e quant'altro sia necessario per lo sviluppo morale ed economico dello stesso. In caso di problemi che interessano un'intera regione o provincia, le federazioni devono deliberare, e nelle riunioni e assemblee che tengono, saranno rappresentati tutti i comuni, i cui delegati apporteranno i punti di vista in essi preventivamente approvati. Ad esempio, se devono costruire strade, collegare tra loro i paesi di una regione a questioni di trasporto e scambio di prodotti tra regioni agricole e regioni industriali, è naturale che tutti i comuni espongano i loro criteri, poiché devono anche. Prestare la loro assistenza. Nelle materie di natura regionale, la federazione regionale attuera gli accordi, e questi rappresenteranno la volontà sovrana di tutti gli abitanti della regione. Ebbene, è iniziata nell'individuo, poi è passata al comune, da lì alla federazione e, infine, alla confederazione. Allo stesso modo, arriveremo alla discussione di tutti i problemi nazionali, poiché le nostre organizzazioni si completeranno a vicenda. L'organizzazione nazionale regolerà le relazioni internazionali, essendo in contatto diretto con il proletariato di altri paesi, attraverso le rispettive organizzazioni, legate come la nostra all'Associazione Internazionale dei Lavoratori. Per lo scambio di prodotti da comune a comune, i consigli comunali stabiliranno un rapporto con le federazioni regionali dei comuni e con il Consiglio Confederale di Produzione e Distribuzione. Rivendicando ciò di cui hanno bisogno e offrendo ciò che avanza. Attraverso la rete di rapporti che si instaura tra i comuni e i consigli di produzione e statistica, costituiti dalle federazioni nazionali dei produttori, questo problema viene risolto e semplificato per quanto riguarda l'aspetto comunitario dello stesso, basteranno le lettere del produttore emesse dai consigli di officine di fabbrica, che danno diritto ad acquisire quanto necessario per coprire tutte le loro necessità. La lettera del produttore costituisce l'inizio di un segnale di cambiamento, che sarà soggetto a questi due elementi normativi, primo, che non è trasferibile, in secondo luogo, che venga adottata una procedura mediante la quale nella lettera il valore dell'opera si è registrato per unità della giornata. Lavorativa e tale valore abbia una validità massima di un anno per l'acquisizione dei prodotti. Agli elementi della popolazione passiva, i consigli comunali forniranno loro le lettere di consumo. Ovviamente non possiamo fissare uno standard assoluto. Deve essere rispettata l'autonomia dei comuni, i quali, se lo ritengono opportuno, possono istituire un altro sistema di scambi interni, purché. Questi nuovi sistemi non possano ledere, in ogni caso, gli interessi di altri comuni. Obblighi dell'individuo verso la collettività e il concetto di giustizia distributiva. L'anarchismo è incompatibile con qualsiasi sistema di correzione, fatto che implica la scomparsa dell'attuale sistema di giustizia penitenziaria, e quindi, gli strumenti di punizione, carceri, carceri, ecc., questo contributo. Concettualizza che il determinismo sociale è la causa principale dei cosiddetti delitti e lo stato attuale delle cose e, di conseguenza, una volta scomparse le cause che hanno originato il delitto, nella maggior parte dei casi successerà di esistere. Pertanto, consideriamo, primo, che gli esseri umani non sono cattivi per natura, e che il crimine è una logica conseguenza dello stato di ingiustizia sociale in cui viviamo. In secondo luogo, soddisfacendo i loro bisogni, dando anche spazio a un'educazione razionale e umana, quelle cause devono scomparire. Per questo, comprendiamo che quando l'individuo non adempia i suoi doveri, sia nell'ordine morale che nelle sue funzioni di produttore, saranno le assemblee popolari che, con un senso armonico, daranno una giusta soluzione al caso. L'anarchismo stabilirà quindi la sua azione correttiva sulla medicina e la pedagogia, gli unici preventivi ai quali la scienza moderna riconosce tale diritto. Quando un individuo, vittima di fenomeni patologici, attenta all'armonia che deve prevalere tra le persone, la terapia pedagogica si occuperà di curare il suo squilibrio e di stimolare in lui il senso etico di responsabilità sociale. Che un'eredità malsana gli ha naturalmente negato. La questione religiosa. La religione, manifestazione puramente soggettiva dell'essere umano, sarà riconosciuta non appena resterà relegata nel tabernacolo della coscienza individuale, ma in nessun caso potrà essere considerata come una forma di ostentazione pubblica o di coercizione morale o intellettuale. Gli individui saranno liberi di concepire. Tutte le idee morali che ritengono appropriate, con la scomparsa di tutti i riti. Difesa della rivoluzione. Ammettiamo la necessità di difendere le conquiste fatte attraverso la rivoluzione. Presumibilmente il loro capitalismo non si rassegnerà ad essere spropriato degli interessi che nel tempo è acquisito. Pertanto, finché la rivoluzione sociale non avrà trionfato a livello internazionale. Saranno adottate le misure necessarie per difendere il nuovo regime, sia contro il pericolo di un'invasione capitalista straniera, di cui sopra, sia per prevenire la controrivoluzione all'interno del paese. Un esercito permanente costituisce il pericolo maggiore per la rivoluzione, poiché sotto la sua influenza si forgerebbe la dittatura che l'avrebbe colpita mortalmente. Nei momenti di lotta. Quando le forze dello Stato, in tutto o in parte, si uniscono al popolo, queste forze organizzate presteranno il loro aiuto nelle strade per sconfiggere la borghesia. Avendo imparato questo, avrai finito il tuo lavoro. Il popolo armato sarà la più grande garanzia contro ogni tentativo di restaurare il regime distrutto da sforzi interni o esterni. Ci sono migliaia di lavoratori che hanno sfilato. Per le casarme conoscono la moderna tecnica militare. Che ogni comune abbia i suoi armamenti ed elementi di difesa, poiché fino a quando la rivoluzione non sarà definitivamente consolidata, questi non verranno distrutti per farne strumenti di lavoro. Raccomandiamo la necessità di preservare aeroplani, carri armati, camion blindati, mitragliatrici e cannoni antiaerei, poiché nell'Ariac. Risiede il vero pericolo di un'invasione capitalista straniera. Se arriverà a questo momento, il comune si mobiliterà rapidamente per fronteggiare il nemico, riportando i produttori sui luoghi di lavoro non appena avranno compiuto la loro missione difensiva. In questa mobilitazione generale, saranno comprese tutte le persone di entrambi i sessi che sono adatte al combattimento e che si stanno. Preparando svolgendo le molteplici missioni richieste in combattimento. I quadri confederali di difesa, estesi ai centri di produzione, saranno gli ausiliari più preziosi per consolidare le conquiste della rivoluzione e formare le loro componenti per le lotte che in difesa di essa dobbiamo sostenere a grandi livelli. Pertanto dichiariamo, in primo luogo, il disarmo del capitalismo implica la consegna delle armi ai comuni, che si occuperanno della loro conservazione e che si occuperanno, a livello nazionale, di organizzare efficacemente i mezzi difensivi. In secondo luogo, nel quadro internazionale, dovremmo fare un'intensa propaganda tra il proletariato di tutti i paesi affinché alzino la loro energica protesta, dichiarando movimenti di solidarietà di fronte a qualsiasi tentativo di invasione da parte dei rispettivi governi. Allo stesso tempo, la nostra confederazione iberica delle comune autonome anarchiche aiuterà, moralmente e materialmente, tutti gli sfruttati del mondo, a liberarsi per sempre dalla mostruosa tutela del carbone.